Salve a tutti, sono Maria Antonietta della Cooperativa Monti del Reventino, uno dei partner del progetto Biodiversità tra i due mari. Questo è un progetto che ricade nella misura 16 cooperazione, in particolare nell'intervento 16-9 con Azione Unubi. Noi abbiamo sposato questo progetto perché essendo una cooperativa cerchiamo di solleticare il territorio anche con il nostro operato e grazie al nostro capofila Franco Fazio e con il supporto importante dell'organismo di ricerca della Regione Calabria, l'ARSAC, abbiamo appunto formato questo partenariato. Insieme a noi hanno aderito molti sindaci del Reventino e il gruppo micologico di Lamezia Terme e praticamente a chi è rivolto questo nostro progetto. È rivolto ai ragazzi, in particolare alla scuola superiore, agli istituti agrari e naturalmente anche c'è un percorso in particolare che è rivolto anche agli istituti comprensivi. Ecco, questo è un lavoro proprio fatto in sinergia tra il pubblico e il privato e noi quello che ci auguriamo è che da questo progetto possano venire sempre più idee, sempre più lavoro perché la sinergia tra i vari operatori del territorio possa essere incisiva da qui in futuro e anche per cercare di tutelarci e salvarci da questa bruttissima cosa che è lo spopolamento e quindi dare sempre idee magari nuove ai nostri giovani. Grazie 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 Grazie